La sperimentazione del sistema duale, un nuovo percorso di qualificazione per i giovani calabresi. È stato il tema dell'incontro nella sede della cittadella regionale a Catanzaro con il sottosegretario al lavoro e politiche sociali Luigi Bobba e l'assessore regionale Federico Roccisano. Al centro del dibattito la sperimentazione tra apprendistato per il conseguimento di una qualifica e un diploma professionale, l'alternanza scuola-lavoro e l'impresa formativa simulata. Questa iniziativa ha un duplice scopo. Da un lato quello di far sì che per tutti i giovani ci sia un'offerta formativa vera che li porti ad avere delle competenze e vediamo che tanti giovani che abbandonano la scuola superiore poi dopo non hanno poi nessun percorso. Il secondo motivo è che riavvicinando scuola-lavoro, studiando e lavorando insieme, ottenendo un titolo di studio anche in presenza di un contratto di lavoro come quello dell'apprendistato formativo, probabilmente riusciamo anche a costruire dei percorsi professionali e delle competenze che siano effettivamente spendibili sul mercato del lavoro. Il tema del lavoro non è un tema che va rimandato nel tempo, che va ad essere affrontato successivamente dopo il termine del percorso scolastico, dopo il termine del percorso universitario, però è un percorso al contrario che va affrontato già dall'immediato. Insieme a questo meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro infatti noi associamo dei contratti di apprendistato, associamo un aspetto pratico e lavorativo in senso stretto all'aspetto formativo. E questo, mappato anche con i sistemi, con le domande del mondo dell'offerta del lavoro e i settori che sono stati selezionati proprio da questa indagine, ci permette di far sì che i ragazzi abbiano già un piede nel mondo del lavoro quando finiscono il loro percorso formativo. Ed è questo quello che ci interessa. Non pensare alla formazione fino a se stessa, non pensare ad una formazione fatta per i formatori, ma ad una formazione realmente tagliata sui giovani, sui nostri ragazzi e realmente improntata al mondo del lavoro.